Il Casentino come sta andando sotto un profilo turistico? Siamo ora veramente fuori dagli anni più brutti che ci lasciamo alle spalle, i turisti stanno scegliendo questa vallata? Sì, noi abbiamo iniziato una promozione turistica come Parco Nazionale rivolgendoci al target giusto, cioè al target naturalistico, perché naturalmente non possiamo competere con il target delle città d'arte perché non abbiamo grandi città, non possiamo competere neanche con il target che ricerca gli aspetti culturali, artistici, anche se abbiamo qualcosa da dire, ma siamo troppo vicini a Firenze e ad Arezzo per poter essere prevalenti in questi settori. Quindi abbiamo scelto il target naturalistico, rispetto ad altre aree protette abbiamo appunto dei valori aggiunti in più e quindi abbiamo un turismo che arriva anche per visitare luoghi di spiritualità come Camaldoli e Laverna, abbiamo davvero pievi, castelli, storia, arte, cultura, letteratura, quindi Dante che cita luoghi ancora oggi visitabili nella Divina Commedia, Dino Campana che nei canti orfici descrive un percorso che da Marradi arriva fino a Laverna, quindi attraverso il Parco Nazionale, ecco noi ci siamo rivolti a questo target e abbiamo avuto una crescita costante ed importante dal 2013 fino a oggi. I numeri continuano a crescere, credo che noi possiamo davvero dire la nostra in questo senso. Naturalmente il turismo come in tutti i luoghi italiani, che già di per sé l'Italia è una meta turistica importante, non possono essere l'unica voce di PIL, quindi dobbiamo pensare che il turismo aiuta l'economia di un territorio ma non può essere l'unica economia.